Ciao, benvenuto o benvenuta nel video di oggi. Parliamo di spaced repetition e di sistema Leitner e vediamo come queste due strategie, tecniche di studio, possono essere integrate per studiare le flashcards. Allora, la spaced repetition è una delle tecniche che abbiamo visto più spesso e il sistema Leitner, non tanto spesso quanto la spaced repetition, sono delle strategie utili e soprattutto efficaci, ma il più delle volte le abbiamo viste singolarmente, quindi non insieme l'una con l'altra. Quindi sono rimaste il più delle volte separate e potrebbe essere particolarmente utile approfondire il legame che c'è, in un certo senso anche una forma di sovrapposizione tra le due strategie. Il quesito a cui cercheremo di rispondere insieme è come possono essere unite queste due strategie in modo ancora più efficace dell'uso di entrambe singolarmente. Allora, partiamo dall'identificare il sistema Leitner, in cosa consiste. La cosa fondamentale, se non ne hai mai sentito parlare, e se vuoi approfondire ho anche dei video proprio specifici, in merito a questo argomento nel canale, quindi se vuoi ti rimando a quello. Partiamo anzitutto dall'identificare cos'è una flashcard. Una flashcard è un quadratino, un rettangolino di carta, in cui devi scrivere da un lato una domanda e dall'altro lato del foglio la risposta. Questa è una flashcard. Qual è l'utilizzo di questo strumento? Leggi la domanda e senza girare il foglio provi a dare la risposta corretta. Poi giri il foglio e controlli se quello che dato è una risposta corretta o meno. Questo, nello specifico del grafico che hai davanti, è un po' rapportato a diverse flashcard, quindi flashcard numero 1, 2, 3, 4 e 5. Ovviamente per studiare l'intero materiale di una materia che stai preparando non bastano 5 flashcard, è auspicabile che tu ne faccia sicuramente molte di più. Ma il ragionamento che andiamo a vedere adesso vale per 5, come per 10, 20, eccetera. Ora, in basso vedi delle caselle, numero 1, 2 e 3. E quindi in azzurro, in arancione e in verde. Qual è la differenza tra queste caselle e a cosa servono? Partiamo anzitutto dalla casella a sinistra, che si chiama Ricordo Poco. È anche abbastanza intuitivo. Cioè, è un contenitore in cui dobbiamo andare a posizionare le flashcard, di cui ricordo ancora poco in termini di risposta che riesco a dare alla domanda. E quindi, questo è il primo tipo di casella, la prima categoria. Quando non riesco a ricordare bene o ricordo poco della risposta contenuta nel retro della flashcard, vado a posizionare la flashcard in questa casella. Lo stesso ragionamento, ma con una migliore forma di ricordo dell'informazione, vale per la seconda casella, che si chiama Ricordo Abbastanza. E quindi, in modo intuitivo, hai già capito che qui vanno poste le flashcard, di cui ricordo abbastanza in termini di risposta, che è posta dietro. E infine, la terza casella, viene definita Ricordo Tutto. Cioè, in questa casella deve andare a essere posta, è quella flashcard o quelle flashcard, di cui ricordi tutto esattamente, e quindi di cui non ti serve un ulteriore approfondimento. Quindi, per farti capire in senso pratico, questo potrebbe essere un modo in cui andiamo a organizzare le flashcard in base a quello che ricordiamo. Per esempio, la flashcard numero 1 e 2 va nella prima casella, perché ricordo poco delle risposte che ci sono messe. La seconda casella, quindi ricordo abbastanza, ospita le flashcard 3 e 4, perché ricordo abbastanza di queste flashcard, e invece ricordo perfettamente la flashcard numero 5. In questo modo, so esattamente su cosa mi devo basare per migliorare la mia preparazione. Quindi non ha senso insistere sulla flashcard numero 5, perché già la ricordo. Al massimo posso ricordare qualcosina meno dopo qualche giorno, e con un brevissimo ripasso, ritorno al massimo. È più importante concentrarsi a partire dalle caselle più a sinistra. Quindi, la cosa più importante è focalizzarsi bene sulle flashcard 1 e 2, perché sono contenute nella prima casella e quindi perché non ricordo abbastanza, quindi non ricordo ancora poco, e quindi devo studiare meglio quegli argomenti, in modo tale che poi dalla prima casella le stesse flashcard possono passare alla seconda e, ancora meglio, alla terza. Quindi l'obiettivo finale qual è? Avere tutte le flashcard nella terza casella, quindi fare in modo che ricordo tutto. Questo avviene attraverso una forma di autovalutazione, e tutto quello che ti ho appena spiegato rappresenta il sistema Leitner. Quindi questo è il modo in cui il sistema Leitner funziona. Come ti dicevo prima, però, devo passare il tempo per fare in modo che riesco ad apprendere bene tutto e ricordare tutte, quindi porre tutte le flashcard, 5, 10, 20, tutto quello che devo studiare, nella terza casella. E potresti dirmi, ma come faccio io ora a considerare le tempistiche, per cui prendo da una casella e le metto dall'altra, come riesco a capire quando devo ripassare quale, prima la casella numero 1, poi la casella numero 2, ma se magari ancora qualcosa non la ricordo bene. Ora, per gestire le tempistiche proprio di questa organizzazione, ecco che ti propongo di unire il sistema Leitner alla spaced repetition. Quindi questo è il momento in cui puoi applicare il ragionamento che ti ho fatto vedere, soprattutto per le caselle 1 e 2, che sono quelle che sostanzialmente hanno anche più bisogno di essere alimentate, soprattutto la casella numero 1, e lo faccio con una cadenza definita dalla spaced repetition. Ecco come si possono integrare queste strategie. E ti voglio fare vedere anche qualche piccola informazione in più. Allora, in questo caso quindi valutiamo l'apprendimento delle flashcards con la cadenza delle spaced repetition. Quindi abbiamo sotto, al solito, la freccia che rappresenta il passare del tempo, in questo caso ogni rettangolo rappresenta un giorno, e come vedi sono due tipi di rettangoli, quelli in azzurro e quelli con il solo bordo arancione. Quelli in azzurro sono giorni di valutazione, cioè dei giorni in cui devi prendere le flashcard dalle caselle, soprattutto prima e seconda casella, e provi a rispondere alla domanda. Se proprio non ricordi la risposta, torna al testo. Cerca di capire cos'è che ancora non ti entra, potremmo dire, in testa, e quindi come devi riuscire un po' a migliorare la comprensione di quegli aspetti. Quindi questa è una cosa fondamentale. Parti proprio dalle prime caselle, e nei giorni di valutazione, che come vedi partono dal primo a sinistra, ce n'è uno subito dopo. Ovviamente ho indicato solo quelli per farti capire quale sono, se ne sarebbe venuto un casino da organizzare con le scritte. Ovviamente sai che tutti quelli azzurri sono i giorni di valutazione, quindi per esempio hai il primo giorno e cominci a ripassare la prima, la seconda casella, e vedi come ricordare meglio, come approfondire e perché non ricordi le risposte. Secondo giorno, stessa cosa, stesso lavoro. Dopodiché, invece di insistere troppo, fai un giorno di pausa. In questo giorno ovviamente non vuol dire che non devi studiare. E che non devi studiare quelle informazioni, quelle flashcard nello specifico. Poi puoi tranquillamente studiarne altre, o studiare altre materie, in base a quale è la tua organizzazione, il tuo piano di studi. Quindi in questo modo si alternano dei giorni in cui valuti l'apprendimento delle flashcard e tutto, dei giorni in cui fai una pausa. E sostanzialmente la space repetition consiste in questo. La cosa in più è che, noterai, guardando bene il grafico, che se sulla parte sinistra, quindi all'inizio, diciamo, del periodo della space repetition, i giorni di valutazione sono più frequenti rispetto a quelli di pausa, quindi giorni di pausa, mentre passa il tempo, i giorni di pausa sono più frequenti rispetto a quelli di valutazione. E il perché, il motivo di questa differenza, è che quando inizierai a studiare e utilizzare questa strategia che ti ho proposto, comincerai a notare che, via via, le flashcard andranno sempre di più verso la terza casella. Comincerai a ricordare tutto, per cui non ha senso, dopo 10-15 giorni, continuare a insistere su flashcard che hai già memorizzato, di cui ricordi tutto, o al massimo lo sforzo sarà minimo, perché saranno veramente poche quelle flashcard per le quali non riesci più a migliorare, quindi in cui poi magari vai a vedere delle strategie specifiche per riuscire a capire perché non ricordi proprio quella risposta, ma il numero sarà comunque inferiore rispetto a tutte quelle che già hai appreso e che ricordi abbastanza bene, o meglio ancora, di cui ricordi tutto. Quindi questo è il modo in cui io ti invito ad utilizzare insieme la space repetition e il sistema Lightner, perché è veramente un modo, come hai notato, di inquadrare bene le informazioni, il materiale, gestirlo, elaborarlo, spostarlo in un momento o in un altro anche del periodo di studio, e questo soprattutto è un lavoro che è fattibile, molto flessibile e in base alle tue caratteristiche, a qual è il tipo di materiale che stai studiando, che tempi hai a disposizione, se sei molto vicino o vicina all'esame oppure hai ancora del tempo da poter investire. Se, nonostante tutto, hai delle domande, dei dubbi, come sempre, al solito, fammi sapere nella sezione dei commenti, oppure se non ti vuoi sporre troppo in pubblico, puoi ovviamente contattarmi anche in privato e trovi tutti i link che ti possono servire nella descrizione. Il video di oggi finisce qui, come sempre ti ringrazio per l'attenzione che mi dedichi e con moltissimo piacere ti aspetto nel video che uscirà domani. Grazie.